Motivazioni, spirito di squadra e lavoro. Questi i quattro punti su cui il Bari costruisce le sue fondamenta per la prossima stagione. Dopo la presentazione della squadra al Battiti Live, Gile e compagni hanno svolto i primi test col nuovo preparatore atletico Gian Piero Ventrone. Poi c'è stata la presentazione del nuovo terzino sinistro Alessandro Parisi, palermitano, classe 77. Parisi non disdegna le proiezioni offensive, proprio come piace all'allenatore, che prima della partenza per Ridanna ha incontrato la stampa. Stanno facendo dei test perché vogliamo un po' conoscere tutto dei calciatori per cercare di eliminare quanto più possibile il rischio infortuni. Ieri il direttore sportivo Perinetti ha detto che sarebbe stata oggi una giornata topica per la questione Barreto. Si sa già qualcosa? Si è già sentito? In Barreto c'è la volontà da parte delle due società, c'è la volontà mia di avere un giocatore del genere perché secondo me ha delle ottime caratteristiche che si completano con le nostre prime punte. Si parla della volontà del Bari, la volontà di Barreto? La volontà di Barreto è quella di arrivare, di venire a Bari perché io ci ho parlato ieri e il ragazzo entusiasta viene da un'annata in cui ha dovuto lottare per non ritorciare contro il Treviso, nonostante questo ha fatto 13 gol. È un giocatore importante, deve risolvere una piccola questione personale, però ecco mi auguro che tra oggi e massimo domani Barreto possesse un giocatore del Bari. Perinetti si è incontrato col procuratore di Masiello, a breve si attende la firma. Intanto il tecnico Biancorosso ha richiesto personalmente per il ritiro di Ridanna la presenza dell'ex centrocampista del Nardò, Claudio De Pascalis.